però ce l'ho ecco l'uomo ce l'ho ecco l'ho ecco l'ho ecco l'ho potrebbe anche essere la seconda parte mi pare un po' più convinta no c'è una dinamica è bene rispettarla facciamo così l'unica roba che cambio è questa questo qua subito dopo ha qualcosa che non va l'attacco o tutto il giro ascoltiamolo ecco l'attacco ecco l'attacco ecco l'attacco è registrato veloce ascoltami facciamolo aspetta vediamo qua perchè lo segnali anche questo vuoi che da qua la registriamo registriamo questa parte qua fino al giallo poi ci prendiamo i pezzi che ci piacciono di più allora tu puoi iniziare a suonare aspetta da qua io entrerò da qua ok però ti faccio che cazzo è Se non lo sai te, è un po' dura per me dirtelo. La rifacciamo? La rifacciamo tutto di nuovo? Si. Ci sei? Si. La rifacciamo, vai tranquillo. Faccio solo metà del giro di primo, ok? Si, si. Ah, scusa, scusa. Ho capito male, io pensavo che facessi il lancio. Era bloccato, scusami eh. Registra, vai... Vai vai.